Grazie a tutti E che grinta ragazzi, facciamo un applauso a questi bambini bellissimi Cinco minuti 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 Ed ora signori riscaldate i motori, si va a tempo di merenghe! Ed ora signori riscaldate i motori, si va a tempo! Ma non abbiamo ancora finito, perché il vostro ultimo ballo è una salsa cubana! E' la tua conta non dà, ni p'alante, ni p'atrà! Tu sai! La gente mette in una cuesta in una bulla, non mi danno papi papà! se la llevas a passear a ella nada le entretiene este mundo está al revés ella de amor no se muere no es de nada, no es de nada no es tabana